Una buona giornata dagli studi di ETV Mark e ben ritrovati alla prima edizione del nostro telegiornale che voi come di consueto potete seguire in contemporanea sul canale 12 del digitale terrestre e naturalmente anche sulla nostra app che si scarica in maniera gratuita per smartphone e per tablet sul nostro sito www.etvmark.it Sulla nostra pagina Facebook partiamo con le notizie e con la celebrazione solenne odierna quella per il 4 novembre la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Noi stamattina siamo stati ad Ancona dove si è tenuto appunto il momento di ricordo al monumento ai caduti del passetto prima l'alza bandiera poi la successiva deposizione della corona floreale a cura del comando delle scuole della marina militare. Tricolori a sventolare ricordi e pensieri di chi come ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella permise allora il riscatto della patria presenti autorità militari religiose e politiche con in testa il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente della provincia di Ancona Daniele Carnevali e anche il vice prefetto Garra. È un momento solenne importante a maggior ragione nel momento in cui all'interno dell'Europa e in Medio Oriente si continua a combattere dunque questa cerimonia dell'unità nazionale e delle forze armate serve anche a richiamare il valore della pace e ulteriori approfondimenti così come le interviste nel corso delle edizioni serali del nostro telegiornale. Noi andiamo avanti invece con il Tg per un'altra notizia che arriva in questo caso dal nostro sito e che abbiamo pubblicato pochi minuti fa perché andiamo a scoprire che 100 bambini marchigiani saranno protagonisti in udienza. Da Papa Francesco a Roma lunedì prossimo lunedì 6 novembre all'evento prenderanno parte oltre 7.000 bambini provenienti da 84 paesi. Il gruppo Ferrovie dello Stato attraverso Trenitalia e Bus Italia, società del proprio polo passeggeri, sarà il vettore principale dell'evento e trasporterà appunto questi bimbi a Roma. I giovani marchigiani partiranno dai piazzali delle stazioni ferroviarie di Ancona e di Ascoli Piceno alle 7.45 a bordo di due autobus di Bus Italia. La giornata sarà un'onda di pace, un sorriso di pace, un momento speciale in cui i bambini saranno al centro, ha dichiarato padre Enzo Fortunato che è il coordinatore dell'evento, ma anche un'opportunità per gli adulti di crescere e di riscoprire l'importanza della purezza. Cambiamo argomento, apriamo la pagina di cronaca, purtroppo ci sono nuovi sviluppi per quanto concerne la ragazzina di 15 anni morta, sembra per un suicidio, le cause sono ancora in fase di accertamento, intanto viene indagato il padre per istigazione, sentiamo. Un volo terribile, un volo di 12 metri dalla finestra della sua cameretta in un palazzo del quartiere Piano ad Ancona. E' morta nelle scorse ore la quindicenne di origini bengalesi caduta dal quarto piano lunedì sera. La ragazzina era stata portata in condizioni disperate all'ospedale regionale di Torrette con un profondo trauma cranico. Ieri, purtroppo, il tragico epilogo. Fin dalle prime ore la procura di Ancona aveva aperto un fascicolo su quanto avvenuto, sentendo le testimonianze dei familiari e di coloro che gravitavano attorno alla ragazza. La polizia ha anche sequestrato i diari e i quaderni della giovane, così come il suo cellulare, per scovare eventuali elementi utili alle indagini. Nelle scorse ore il PM Andrea Laurino ha iscritto nel registro degli indagati il padre della ragazza con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. La polizia sta facendo luce sulle dinamiche all'interno della famiglia e sui rapporti della quindicenne con i genitori. Se con indiscrezioni sembra che la giovane fosse terrorizzata da un imminente viaggio della famiglia nel proprio paese d'origine, in Bangladesh, questo almeno avrebbe confessato la ragazza a uno dei suoi insegnanti. Il motivo, però, non è chiaro. L'ipotesi è che il padre volesse costringerla a fare qualcosa che lei non voleva, forse persino un matrimonio combinato, anche se al momento non vi sono elementi a suffraggio di questa tesi. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dagli esiti dell'esame autoptico disposto oggi dalla procura. Sembra, infatti, che la ragazza fosse preoccupata per una visita medica ginecologica che aveva in programma nei giorni seguenti. Tra le ipotesi degli investigatori è anche quella di una gravidanza e la paura delle reazioni della famiglia. Questi gli aggiornamenti nel servizio della nostra collega Laura Meda. Parliamo di maltempo, ma in questo caso di neve, che è iniziata a cadere a Frontignano, di Ussita. Sono caduti, infatti, nella notte i primi fiocchi di neve. Si tratta della prima nevicata sull'Apenino Marchigiano. Queste sono immagini di archivio, naturalmente non ancora così corposa e consistente, ma comunque da bene misura di quanto sia attesa nella località sciistica che stamani si è risvegliata sotto un leggero manto bianco con i gestori degli impianti di risalita che hanno pubblicato le immagini della webcam sulle pagine social aggiungendo che tra una decina di giorni gli impianti torneranno in funzione per la felicità dei tanti appassionati della montagna d'inverno. Intanto, a proposito di maltempo, prestate attenzione perché da questa sera potrebbero tornare condizioni non propriamente favorevoli dopo una giornata che è cominciata nel segno del sole. Infatti, il cielo tornerà ad essere coperto dalle nubi e per domani, 5 novembre, sono attese di nuovo le piogge con rovesci e temporali nei settori settentrionali per poi spostarsi in quelli meridionali. I venti saranno forti in colline e in montagna, il mare mosso e le temperature in diminuzione nei valori minimi. Parliamo di mercato europeo che ad Ancona sta davvero regalando sorrisi e tanti prodotti, tutti da gustare. Sentiamo. Qui facciamo la paella mista con pesce e le verdure. Noi vendiamo prodotti tipici della Puglia, quindi il caciocavallo, il pane, il pecorino, le burrate, soprattutto che le abbiamo portate fresche stamattina. L'anduio, il soprassato, il caciocavallo, sono tutti prodotti calabrese. Fra mille specialità che arrivano un po' da tutto il mondo, qua giochiamo in casa? Sì, io sono della zona e ho le olive scolane, è normale, che normalmente le porto in giro per l'Italia. Dalla paella spagnola alla carne argentina, dai biscotti artigianali della Bretagna ai sapori della nostra terra. Al via oggi e fino al 5 novembre ad Ancona l'ottava edizione del mercato europeo organizzato da ConfCommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale. È una di quelle iniziative che danno la dimensione a questa città di essere un capologo di regione, che è un po' l'obiettivo del mandato dell'amministrazione Silvetti. Devo dire che da questo punto di vista, anche e soprattutto grazie alla grande sinergia con l'associazione di categoria, ConfCommercio non è un esempio lampante, se ognuno fa il suo i risultati poi sono tangibili. Sono 100 operatori che sono distribuiti lungo Corso Garibaldi e il food, come dicevamo, intorno a Piazza Capurba. Noi ci aspettiamo circa 15.000 presenze giornaliere, il tempo ci assiste e mi pare che la città di Ancona col sole è bellissima. Cibi, prodotti tipici, profumi, sapori, volti e sorrisi che arrivano da ogni angolo del pianeta, tra vecchi e nuovi espositori, per un mercato che oramai non è più solo europeo. Ormai non è più il mercato europeo, ma è un mercato a 360 gradi e arrivano dalla Sudafrica, dalla Sudamerica. Quali sono le novità di quest'anno? Tante nuove sorprese, abbiamo l'Irlanda, abbiamo il pesce anche austrano, marchigiano, pertanto ci sono novità legate anche al nostro territorio. Il tutto in piena sinergia con le attività locali. È una scelta di mettere proprio l'attività di fronte alle vetrine, lasciando lo spazio per passeggiare e per gustare e vedere i prodotti del mercatino europeo, ma dall'altra parte anche le attività commerciali della città di Ancona. E cosa ne pensano gli espositori? Veniamo ogni anno, sono abituati, ci conosce tutto, è veramente un cibo che le piace a tutti. Veniamo da Salzburgo, una bella distanza, 900 chilometri, ma torniamo sempre qui volentieri già da molti anni. Mi sembra che questo sia il nono anno. Siamo contenti, una bella manifestazione e le persone qui sono fantastiche. Manifestazione che continua fino a domani nel capoluogo dorico. Io mi fermo, ma tutte le news, come di consueto, viaggiano sempre sul nostro sito www.tvomarche.it dove trovate anche i nostri contributi video, sulla nostra app, sui nostri social. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona giornata, di un buon sabato, perché no in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.